Una sgargiante combinazione di giallo e azzurro, i colori dell'Ucraina, ha accompagnato la biellese nella sua seconda vittoria consecutiva. L'iniziativa, fortemente voluta dal presidente Rossetto, ha ribadito la vicinanza della società alle popolazioni dell'Europa dell'Est. Lo sport ha una voce, orgogliosi di farla sentire forte e chiara, stampate sul petto dei giocatori delle grandi lettere che hanno formato la scritta Ukraine Free, Ucraina Libera, un argomento su cui si potrebbero spendere fiumi di parole, decisamente più interessante della partita. Sul sintetico biellese non è successo quasi nulla. La Liori di Mister Mellano parte meglio e sciupa due ghiotte occasioni nel primo tempo, con l'ex giovinazzo che non riesce a inquadrare la porta. Per tutti i 90 minuti il portiere biellese Rai Nero ha a malapena sporcato i guantoni. La biellese in questo momento si affida a Paolo Scienza. Il talentuoso attaccante prima spreca una buona occasione in area, poi si accentra dalla destra, vince un dribbling e mette in rete il gol che vale la vittoria. Tre per lui nelle ultime tre uscite casalinghe. Il secondo tempo è bloccato, di vere emozioni non ce ne sono. La biellese spreca in contropiede due buone occasioni, una gigantesca con Latta, che festeggiava ieri, le 100 presenze da bianconero. Allo scadere l'attaccante a tu per tu con Malune ha preferito cercare un assist piuttosto che tirare. Poco importa perché la biellese si prende i tre punti e ne guadagna due sullo Stresa. Bloccato 0-0 nel derby del Lago contro il Baveno, squadra in grande forma. Qui con Mr. Martin Pellerei, altra vittoria a Casalinga, due di fila. Molto importante soprattutto guardando anche Stresa. Un po' dobbiamo guardarlo. Assolutamente. Lo stavamo dicendo prima, in casa avevamo rallentato un pochino il passo mentre che in trasferta andavamo a ritmo sostenuto. Era importante fare tre punti oggi. Di nuovo sapevamo che era una gara difficile e abbiamo ragionato anche sul fatto che loro chiudevano questa parte centrale del campo, quindi lavorare un pochino più in ampiezza. Il primo tempo non ci siamo riusciti benissimo, il secondo tempo abbiamo provato qualcosina in più, però è logico che non è stata una partita facile. Importantissimi tre punti. Poche occasioni, direi la più importante concretizzata. È mancato magari il colpo di grazia alla fine, però. Biellese è concreta? Biellese è concreta, sì, assolutamente. Quindi adesso affrontiamo anche Varallo con la giusta personalità, il giusto buon umore che ci può sempre stare, quindi affrontiamo una settimana importante da non sbagliare, assolutamente. Paolo Scienza, tre partiti in casa, tre gol consecutivi. Questo pesa veramente tanto perché vale tre punti? Per fortuna è andata come speravamo. È stata dura, una battaglia, però alla fine i tre punti sono nostri. Più bello quello di oggi? Quello contro la Pro-Ureca? Forse quello era veramente magnifico. Ma forse quello contro la Pro-Ureca è più bello, ma questo è più importante perché l'altro zero punti, questo almeno tre punti, sono stati guardati da casa. Pensavamo che alla fine di queste quattro partite, ne mancano ancora due, potessimo arrivare lì lì. Infatti siamo a meno tre punti, con uno in meno e quindi alla fine di queste due gare che ci mancheranno. Speriamo di esserli o davanti o comunque lì vicini. Ultima cosa, come state vivendo questo periodo? C'è Mister Rizzo fuori, comunque la squadra mi sembra unita nel lavorare per questo obiettivo. Ma il gruppo non si tocca, siamo tutti uniti, ce lo ripetiamo, che mancano ancora 11-12 partite. Fino a maggio sarà guerra contro tutti e prima del verdetto finale speriamo di farcela contro tutti. Io ti dico, sono abbastanza soddisfatto della prima mezz'ora dove è chiaro che se Giovinanzo è più bravo a fare gol su quel pallone, dove secondo me era abbastanza semplice farlo a rosso terra, lui ha scelto questo pallonetto che è andato fuori. La partita può andare un po' diversamente perché nel primo tempo la Bielese abbiamo concesso il gol di scienza che non dovevamo prendere perché i ragazzi sapevano, però resta il fatto che l'abbiamo preso è una conclusione dove Maluna è stato bravo. Se no non gli abbiamo concesso tantissimo. Nella seconda parte della gara secondo me c'è stata pochissima partita perché noi occasioni non ne abbiamo più avute, loro hanno palleggiato, i ritmi sono stati molto bassi, dunque alla fine ci sta che abbiano vinto loro. Portiamo a casa questo 1-0, piacere non ci fa sicuramente, ma spero che da domenica prossima abbiamo finito un po' questo ciclo di ferro e di incominciare a fare qualche punto.